Il cluster Spring è il cluster previsto dal Ministero per la Ricerca sulla chimica verde e ha il compito di riunire le forze di un settore che in Italia è caratterizzato da quattro elementi che lo fanno apparire strategico. Il primo è che operano delle imprese di grandi dimensioni, non solo piccole e medie, di conseguenza che possono avere progettualità importanti. La seconda caratteristica è che si sta lavorando su ricerca di frontiera e non è sempre così in Italia. Il terzo è che non si sta facendo solo ricerca, ma si sono già realizzati importanti investimenti industriali che sono tra i più importanti a livello europeo, se non i più importanti. Il quarto è che è uno dei pochi ambiti in cui in Italia si lavora bene tra ricerca pubblica e ricerca industriale. Il cluster ha di conseguenza il compito di valorizzare questa biobased industry per farla crescere e farla diventare importante.